Oggi questa iniziativa, questa cerimonia dell'Academy Leaders, della premiazione Academy Leaders vuole proprio essere un focus sull'eccellenza italiana. Vogliamo premiare persone che si siamo distinte nel campo della scienza e della salute proprio per dare lustro al nostro paese e per essere competitivi rispetto ad altri settori, rispetto ad altre università. Noi speriamo in questo di essere anche noi leader con i nostri master, facciamo formazione, abbiamo più di 400 studenti, facciamo formazione in ricerca, medical affairs, dispositivi medici, farmaci, ma anche adesso in cyber security, intelligenza artificiale. Ecco, il premio è qualcosa che ci vuole rendere unici per dimostrare quanta eccellenza abbiamo e lo vogliamo far vedere a tutti.